Seconda parte della nostra rassegna stampa giovedì 7 novembre 7.42, siamo in diretta per chi ci segue ovviamente di buon mattino, ancora buongiorno a tutti da parte della redazione di Nuola TV. Vi abbiamo raccontato quello che hanno riportato le testate locali per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, adesso andiamo a vedere un po' quello che dicono i quotidiani nazionali che naturalmente aprono in maniera più dubitativa rispetto ad ieri quando si era in attesa dell'esito del voto. Adesso che l'esito c'è ovviamente l'apertura è quasi sempre e ovunque dedicata alla vittoria di Donald Trump che diventa il 47esimo presidente degli Stati Uniti. L'America di Trump titola il Corriere della Sera, storico Bissa la Casa Bianca, fermerò le guerre, vittoria anche nel voto popolare. Kamala Harris ammette la sconfitta ma dice non ci arrenderemo, c'è stata poi anche una telefonata tra Donald Trump e Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. Ci sono poi gli editoriali che raccontano, commentano anche quello che è stato l'esito del voto americano, Aldo Cazzullo a sinistra, lo vedete, il ritorno e i motivi, mentre c'è anche un'altra riflessione, eccolo qua. Questo è l'editoriale di Cazzullo, se ci spostiamo invece a destra vediamo un altro fondo abbastanza interessante di Federico Fubini, l'Europa debole è un paracadute che non c'è più, si parla di crisi o di svolta. A proposito di crisi, scendendo un po' più in basso parliamo di crisi di governo a Berlino, rischio di voto anticipato e poi bisogna andare un attimino più a sinistra perché ritorniamo su Trump, questa mi era sfuggita. Però eccola qua, Dazzi, energia, tasse, che cosa farà il Tycoon? Interrogativi che ci si pone adesso per quanto riguarda la situazione economica perché vi ricordiamo che una delle prime iniziative che ha annunciato il nuovo presidente è proprio quello della reintroduzione dei Dazzi. Poi però sotto parla Tajani che sembra quasi voler tranquillizzare tutti e dice è un amico dell'Italia, riferendosi naturalmente a Trump, tuteleremo l'export. Attenzione invece al titolo di Repubblica in prima pagina che sembra fare un po' lacchiosa al film comico che interpretava il ritorno di Benito Mussolini, porta lo stesso titolo, sono tornato. Quindi l'impressione che ci sia un nemmeno tanto celato senso di ironia nella prima pagina del quotidiano. Di nuovo presidente degli Stati Uniti, otto anni dopo la prima elezione, l'amico Musk guadagna in un giorno 13 miliardi in borsa la disfatta di Kamala Harris che accusa Joe Biden, ormai ex presidente, e dice ha grandi responsabilità. L'editoriale di Ezio Mauro che parla di un potere che rifiuta il sistema, lo vedete a sinistra, scorrendo invece in basso ci rendiamo conto che di fatto la prima pagina del quotidiano La Repubblica è interamente dedicata a questa vicenda, ma non è l'unico giornale. La stampa, eccola qua, America è tornato con Donald Trump che si mostra in questa espressione, di fatto torna presidente degli Stati Uniti. Poi ci sono una serie ovviamente di analisi che riguardano anche Casa Nostra. A destra Meloni, Salvini, Contagline, la Casa Bianca spacca i poli tra chi parla ovviamente di risultato importante. Meloni e Salvini insomma promuovono la vittoria di Donald Trump, anche se se vogliamo essendo al governo è anche un po' il gioco delle parti. Di parere opposto i leader di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Poi c'è un'analisi molto più ad ampio spettro, sempre sulla sinistra, così con la sconfitta di Kamala Harris tramuntano Obama e i Clinton. Perché è chiaro che insomma il risultato di questa tornata elettorale negli USA di fatto chiude anche un'era. Lasciamo anche la stampa e andiamo a dare un'occhiata a qualche altro quotidiano. No, facciamo così, andiamo a distrarci un po' per non parlare solo di Stati Uniti. Guardiamo un po' i quotidiani sportivi. Anche perché? Perché ieri si è giocata la seconda giornata di Champions League ed è stata una giornata assolutamente trionfale per le italiane. La gazzetta dello sport punta sull'Inter, Inter di ferro, rigore di Cialanoglu e super difesa con la vittoria sull'Arsenal. Ora gli ottavi sono più vicini e domenica c'è il Napoli. Perché ricordiamo che domenica sera c'è questo scontro importantissimo al Meazza-Sanzilo. Ne abbiamo parlato già nella giornata di ieri. L'Inter sfida in Napoli. In palio c'è il primo posto. Ricordiamo gli azzurri al comando con un solo punto di ritardo. C'è spazio però anche per un'impresa che tutto sommato è anche, a mio avviso, più rilevante di quella dell'Inter. Dea, riferito all'Atalanta, puoi sognare. Atalanta che impresa? A Stoccarda, Lukman e Zaniolo gol. Gasp vola. Bergamaschi vittoriosi in trasferta 2-0 con una squadra che due settimane fa aveva battuto la Juventus a domicilio. Peraltro, dominando il match Reinders, viene definito il tesoro Milan in basso a sinistra. Perché non si è ancora spenta l'eco della clamorosa affermazione dei rossoneri contro il Real Madrid a Santiago Bernabeu. Mentre, come vedete, poi c'è spazio anche per l'Europa League alle 18.45. In campo la Roma con l'Union Saint-Gilois a Bruxelles alle 21. Big match Lazio-Poker. E allora tira le somme così. La Rosea-Europa League. Juric rischia tutto. Lazio fa i poker e chiude i conti. Anche perché la Lazio, vincendo questa sera, sarebbe virtualmente qualificata al turno successivo. E allora adesso andiamo a vedere che cosa racconta invece Tutto Sport che ovviamente dal giornale di Torino sceglie un taglio alto decisamente singolare. Perché sono in programma a breve le ATP Finals, alle quali parteciperà anche Yannick Sinner, lo ricordiamo, numero uno del mondo. Che insomma si dedica, come vedete, anche ad iniziative filantropiche varando una fondazione. Questa è una cosa che sicuramente fa onore all'asso del tennis di casa nostra. Vlaovic e David, grandi sogni. Tutto Sport punta invece sull'attaccante della Juventus e su quello del Lille, che di fatto è colui che ha messo a segno il gol per i francesi. Quindi la Juventus, secondo quelle che sono le voci di mercato di Tutto Sport, punterebbe a fare un'accoppiata tra quello che è l'attuale centravanti e quello che invece è l'attaccante che ha proprio sfidato la compagine di Tiago Motta nella scorsa partita di Champions. C'è spazio ovviamente anche per la Champions League per le gare di ieri, ha Inter di rigore, anche Zaniolo nello sballo dell'Atalanta che, lo ricordiamo ancora una volta, ha espugnato il campo dello Stoccarda. Poi ancora Manita Barks, blitz atletico, il PSG adesso rischia grosso. La squadra dello sceicco Alkelaifi rischia infatti l'eliminazione dalla Champions League al primo turno e sarebbe qualcosa di clamoroso. Chiudiamo anche con l'Europa League, anche qui Juric si gioca la Roma, Lazio e Viola per volare. Si parla ancora della posizione del tecnico giallorosso che potrebbe essere seriamente in bilico. Adesso andiamo invece a dare un'occhiata a quelli che sono i quotidiani regionali, anche se in alcuni casi come il mattino. Per esempio, eccola qua, l'apertura è sempre sulle elezioni americane. Trump presidente con questo messaggio abbastanza significativo. Fermerò le guerre. Poi c'è l'editoriale del direttore Roberto Napoletano, l'onda lunga repubblicana e l'Europa. Questa è una chiave di lettura abbastanza interessante che deve farcela con le gambe sue. Donald torna alla Casa Bianca, Harris lo chiama e i Dem attaccano Biden. che con il suo dietrofront, quando ormai i giochi erano fatti, certamente non ha contribuito a rendere semplice la campagna elettorale per Kamala Harris. Che chiaramente è partita, come si dice in giro, ad handicap. Ci sono poi anche notizie che riguardano il sud e che ci tirano su il morale. Rapporto Banca Italia su quello che viene definito cambio di paradigma. Leggiamo sul mattino. Pil e occupati al sud, cresciuti più del nord. Quindi questa è sicuramente una buona notizia che riporta il quotidiano napoletano. che poi torna a parlare anche della tragedia che è occorsa con la morte del povero santo romano. Eccolo qua. Casoria, l'addio degli amici a santo. Cori, palloncini e fumogeni. Giovane ucciso. Spunta un video. E che è un video, bisogna riconoscerlo, abbastanza cruento. In basso a sinistra, prima di chiudere con il quotidiano il mattino, alla mostra d'oltremare per un posto all'Asl Napoli 2 Nord. Eccolo qui il titolo. Concorso per 30 infermieri. Si presentano, pensate un po', addirittura in 5.000. Andiamo poi a vedere la prima pagina del quotidiano il Roma, che decide in ogni caso di puntare comunque sull'elezione di Trump. Eccola qua. Il ritorno di Trump, il candidato repubblicano eletto dopo quattro anni di Biden. Il governo esulta. E ci sono però anche le parole degli imprenditori campani che dicono ora via i dazzi. Perché è chiaro che i dazzi sull'Europa rappresentano quello che è un pericolo sempre imminente. Poi, attenzione, perché questo è un avviso ai naviganti, domani sciopero di tutto il trasporto pubblico per 24 ore. Poi scendendo in basso a sinistra c'è una problematica che interessa da sempre, da qualche giorno almeno il Roma, che riporta le dichiarazioni di De Luca che attacca il PD e dice irresponsabile chi vuole fermarmi. E poi, a destra, la notizia ripresa già dal mattino, in fila proprio dalle prime ore del mattino, in questo caso al Palapartenope, in 5.000 per 30 posti di infermiere. E, insomma, questo la dice lunga su quanto fosse ambito questo concorso dell'ASL Napoli 2 Nord. Andiamo, dovremmo avere ancora tempo, poi chiedo conforto alla regia. Andiamo a vedere ancora cronache di Napoli. Armi ai minori, l'anatema del Vescovo si punta sui funerali di Santo con Monsignor Beneduce che dice Dio paralizzi le mani di chi le vende ai negozi. Ancora cronaca su un giornale che fa della cronaca, comunque il suo core business professionale. I Mazzarella a caccia di Nicola Rullo e poi, scorrendo ancora, c'è un pezzo di preparazione a quello che è il big match di domenica tra Inter e Napoli in programma a Milano. Non solo Kvara e Lukaku, cerca nuovi gol il tecnico azzurro Antonio Conte con l'Inter notte da ex con lo botca disponibile. Torna dunque a disposizione il centrocampista Politano, Mectomine e Bomber di scorta chiamati a dare di più. Da cronache di Napoli andiamo a dare un'ultima scorsa a qualche altro quotidiano, poi andiamo invece a vedere le previsioni meteo. Allora ci dedichiamo all'inserto del Corriere della Sera, vale a dire il Corriere del Mezzogiorno che punta sulle dichiarazioni di Vincenzo De Luca, abbiamo fatto un lavoro in mane, chi lo interrompe è un irresponsabile e la Campania non può avere vita a sé. Il sindaco e la vicenda del terzo mandato serve sempre il confronto con i partiti nazionali. Attenzione, in alto a destra, questo è un titolo abbastanza interessante, perché forse il turismo a Napoli sta prendendo anche una deriva dalla quale bisognerebbe guardarsi e sulla quale bisognerebbe riflettere. Affitti brevi, i dati di Inside, Airbnb, quartiere per quartiere, il reddito generato è boom di annunci, quasi 11.000, così Napoli è diventata una maxi casa vacanze, a questo punto anche con tutto quello che ne consegue, perché poi diventa sempre più difficile trovare degli alloggi. C'è poi una notizia in alto a sinistra, sicuramente originale, degna di approfondimento, vale a dire il record dei parti cesari riferiti a Napoli, e poi una news che riguarda l'Università Federico II, Corte dei Conti, la stiamo vedendo, eccola qua, il neurologo Covelli restituisca 400.000 euro. C'è ancora il tempo per dare un'occhiata alla prima pagina di Repubblica Napoli, che torna ad occuparsi della tragedia costata la vita a Santo Romano, il gelo dell'assassino. La lite hanno calpestato le mie scarpe da 500 euro. Pensate un po' per quale motivo questo ragazzo di appena 17 anni può aver utilizzato una pistola e ucciso praticamente un quaetaneo, un ragazzo di appena 19. Roba davvero da fare a capponare la pelle. A destra De Luca attacca Schlein, mentre il governo prepara il ricorso contro il terzo mandato. Più giù c'è l'intervista a Cananzi, che in parte difende De Luca, dice ha lavorato molto ma ora è giunta l'ora che lasci. Metro, linea 6, corse saltate, stop di mezz'ora. Fin qui i quotidiani regionali e nazionali. Adesso andiamo a dare prima velocemente un'occhiata alle previsioni meteo e poi ci salutiamo. Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì quando possiamo notare a livello europeo questo enorme campo di alta pressione con i massimi sempre tra la penisola balcanica e tutti gli stati centrosetenzionali del comparto europeo. Invece un lieve cedimento dell'alta pressione sarà possibile sul Mediterraneo centrale con l'inesco di precipitazioni tra le due isole maggiori e il terreno meridionale. Focus, infatti, piogge Europa Meridionale. Notiamo queste macchie blu, indice di qualche precipitazione tra la Sardegna, la Sicilia ed il terreno meridionale. In sintesi quindi la mappa dell'Italia, più variabilità sulle isole maggiori, soprattutto sulla Sicilia, sussiste il rischio di precipitazioni con clima ventoso, venti da est-sud-est. Restanti in zone dell'Italia, cielo sereno o al più poco nuvoloso, le nebbie di notte al mattino in pianura padana, anche fitte. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo. E come ogni giorno rinfreschiamo anche la memoria ai più distratti, ricordandogli a chi fare gli auguri. Ecco il santo del giorno, San Prosdocimo. Quindi dubito che da queste parti si possano fare gli auguri a qualcuno, però insomma i nomi, quando li si attribuiscono, sono sempre i più avventati. Quindi hai visto mai. In ogni caso auguri ai Prosdocimo, che dovessero essere anche dalle nostre parti. E prima di salutarci, la pillola di saggezza. Noi non possiamo cambiare nulla, fino a che non accettiamo l'idea che per cambiare le cose dobbiamo cambiare prima noi stessi. Noi non cambiamo invece, perché domani mattina alle 7.30 siamo di nuovo qui con la Rassegna Stampa. Continuate a seguire tutto il giorno Nuvola TV. Restate in nostra compagnia, di certo non vi annoiate. Arrivederci.